Per questo video è tutto ragazzi, macchinetta del caffè, ho già programmato il secondo video perché tanto questa spedizione mi arriva tra un attimo Tempo due settimane, dovremo avere la macchinetta funzionante Ah, ciao a tutti e benvenuti nel secondo episodio della macchinetta del caffè È esattamente ancora come l'abbiamo lasciata a luglio del 2021, ma è giunto il momento di completarla assieme Allora, è successo molto dell'ultima volta che ci siamo visti a parlare della macchinetta del caffè In particolare alla fine di quel video stavamo addirittura ancora aspettando le PCB che sono arrivate ovviamente Molti di voi che mi seguono su Instagram in realtà già le hanno viste a luglio quando mi sono arrivate per posta E sono bellissime ragazzi, guardate qua lo splendore di questa PCB, matte black, tutta nero, opaco E come vi preannunciavo, cioè come avete visto dallo scorso episodio, ne abbiamo cinque, quindi sicuramente quattro di queste Ah, ce n'è anche una senza componenti? Sì, ce ne sono tre con i componenti saldati più una senza componenti E queste qua le regalerò sicuramente a voi in qualche maniera, ci penseremo a tempo debito L'altra interessante novità è che da qualche giorno siamo senza gas qua in casa, infatti vedete che c'è la bombola montata sul lanciafiamme Infatti la macchinetta del caffè è l'unico modo per fare il caffè Salve sono un testimonia, questo non si può fare con lanciafiamme Molto bello grazie Quindi la macchinetta non potrà permettersi di avere downtime, dobbiamo mantenerla funzionante mentre la costruiamo Perché mi serve nutrirmi di caffeina E comunque allacciamenti del gas a parte, questa sarà la nostra unità centrale della macchinetta del caffè smart Abbiamo due grossi transistor qua, abbiamo i connettori per il servomotore Abbiamo l'ESP qua che ci garantirà sia l'unità centrale, lui è il microcontrollore Sia la connessione wireless, vedete infatti che sulla parte blu della PCB qua ospita l'antenna, antenna wifi Abbiamo tutta la piadinatura perché queste PCB a seconda di come le programmiamo in realtà vanno bene per tantissimi tipi di elettrodomestici smart Cioè potrei farci anche una lavatrice smart con questo, per dire, con questo è un relais O una lavastoviglie smart, o un forno smart, o tutte le cose che non nascono smart Magari faremo una piccola serie Però ragazzi ne approfitto di questa bellezza per ringraziare veramente tanto Un'altra volta, come già nel primo episodio ho fatto, PCBWay per aver creduto nel progetto Quasi più di me anche perché io ho lasciato passare tutti questi mesi in vano Mentre loro da subito si erano detti entusiasti del progetto Ne approfitto, visto che ci sono, per ricordarvi che PCBWay è un sito fighissimo Dove ordinare le vostre PCB per piccoli progetti come quello che facciamo oggi Già nel primo episodio abbiamo visto un livello di personalizzazione estrema delle proprie PCB A parte il colore matte black che ho preso così per sfizio Ma abbiamo potuto scegliere la dimensione, il materiale, delle piste in rame, il piombo o non il piombo I contatti e la placatura in oro e tutto Cioè proprio ti dà la granularità di tutte quante le possibili impostazioni per avere la PCB Esattamente come la vuoi tu E tutto questo ha dei prezzi che sono veramente tanta roba Perché abbiamo visto nello scorso episodio che potevamo ordinare 5 PCB Letteralmente per 8 dollari più 9 di spedizione Che convertiti in euro saltavano fuori tipo 12 euro Chiaro io ho speso molto di più perché ho anche chiesto ai cinesi di saldare tutte le componenti Infatti vedete che le PCB mi sono arrivate già belle cariche di componenti tutto saldato Sapete che hanno delle facilities incredibili PCBWay Ci sono stato nel 2019 in persona a vederle E hanno i forni giganteschi per andare per stadi con le temperature E hanno le macchine che in automatico piazzano gli SMD E i cinesini con il saldatore che piazzano tutto quello che le macchine non possono Insomma ti arriva a casa o in azienda o insomma ovunque tu abbia ordinato la tua PCB Un prodotto finito pronto a essere o utilizzato o volendo anche commercializzato In descrizione trovate il link a PCBWay mi raccomando E noi proseguiamo con la nostra macchinetta del caffè perché c'è tantissimo da fare Piccola premessa anche per chi magari guarda questo video in futuro Questo video esce successivo a uno in cui avevo detto Non pubblicherò più video sul canale finché non esce il prossimo episodio della macchinetta del caffè Perché me lo chiedete ovunque e va bene non è il caso di allungare troppo questo video Ripetendo le cose che ho già detto in quello se volete andatevelo a vedere Nei commenti mi avete mostrato un supporto incredibile Dicendo che effettivamente ci tenete tantissimo a video di qualsiasi natura Che non per forza doveva uscire la macchinetta del caffè e nient'altro e cose varie Quindi anche complice il fatto che c'è tantissimo da fare su questa macchinetta E vedrete che questo video di oggi sarà molto lungo e non sarà l'ultimo Ecco ve lo spoiler non sarà l'ultimo Ho deciso di dividere l'ultimo episodio in due episodi Perché se no avrei fatto un'ora di video che quasi nessuno avrebbe guardato interamente E che sarebbe uscita magari tra due settimane quindi per due settimane non usciva nessun altro video sul canale E penso che questa qua sia la soluzione migliore per tutti Ma faremo un sacchissimo di cose oggi Quindi mettiamoci subito all'opera Vi spiego il progetto Ma per spiegarlo recupero dai retroscena qua Un gigantesco servomotore da 60 kg Questa cosa letteralmente può spezzarti un dito Perché ho preso un servomotore così potente è perché questo coperchio non è mica facile da attuare Nel momento in cui devi prendere dentro una cialda qua serve molta forza Quindi ho preso il servo più potente che ho trovato su Amazon Però dovremmo fare molta attenzione perché Cioè voi immaginatevi di averci un dito così e di caricare 60 kg 60 è molto pericoloso Scocca in metallo lui sarà posizionato qui sul lato Non bellissimo ma purtroppo questa è l'unica posizione dove possiamo metterlo Magari ve la metto a 45 gradi Sarà messo qua e con la sua graffa di metallo sarà quello che apre e chiude lo sportello Con incredibile forza Servomotore ovviamente che sarà connesso alla nostra PCB Di PCBWay Link in descrizione Che abbiamo progettato apposta per reggere grossi carichi di corrente O meglio dovrebbe fare 5-6A se non sbaglio Comunque ci siamo dentro con il servomotore E quindi lo alimenteremo interamente dal nostro magico controllore E qui abbiamo risolto il problema dello stantuffamento Manca il problema del caricare le cialde Perché abbiamo visto nello scorso episodio che ho queste bellissime cialde di acciaio Le riempo tutte con la polvere della moca E voglio che quando dico Alexa fammi il caffè Vengano caricate consecutivamente Cioè ogni volta che dico Alexa fai il caffè Venga caricata una cialda Venga estruso il caffè E poi la cialda se ne vada Le ho pensate tutte Ho pensato di mettere un altro servomotore Una rotaia che dal lato ne spingesse una alla volta Una di quei cosi fatti a forma di spirale Che tipo spingono fuori le merendine Dalle macchinette ai distributori automatici Addirittura ho pensato di comprare da Amazon Uno di quei bracci robotici controllati con Arduino E di mettere proprio un braccio robotico Che venisse a caricare la cialda E poi si togliesse dalle balle Perché? Perché il problema è questo coperchio Cioè il buco dove noi vogliamo inserire la cialda Viene coperto da questa roba di alluminio E quindi il problema è che questo qua si apra E noi arriviamo a caricare la cialda Poi ci togliamo dalle balle Questo si chiude E a questo punto è il momento di fare il caffè Non facilissimo Ma fortunatamente c'è un vecchio amico Che pensa a tutto quanto Ed è la gravità Perché alla fine non aveva nessun senso Sovracomplicare le cose Quando il metodo più semplice è Fare un buco qua Tra un attimo lo faremo Una bella finestrella qua sopra Quindi lasciando i bordi Dove il servomotore può spingere Per chiudere e aprire il coperchio E quindi le cialde possono in qualsiasi momento entrare Il processo quindi è il seguente Allora la cialda dovrebbe essere Una cialda in espresso normale Come forma Però io voglio esattamente la forma delle mie cialde Perché non si sa mai Quindi cosa ho fatto? Ho preso una piccola morsa L'ho agganciata sul mobile qua alle mie spalle Dove avevo un sfondo totalmente bianco dietro Nella morsa ho stretto una bacchetta da sushi E in cima alla bacchetta da sushi La nostra cialda Avendo poi cura di allinearmi Esattamente alla stessa altezza Stando più lontano possibile Con più zoom ottico possibile Quindi potete farlo con una fotocamera Potete farlo con l'iPhone Potete farlo con quello che volete L'importante è che usiamo il maggiore zoom ottico possibile Quindi nel caso dell'iPhone sarà la lente 3x Nel caso della fotocamera Giro l'obiettivo tutto dalla parte dello zoom Questa cosa dello zoom non è obbligatoria Nel caso delle nostre cialde Perché sono un tronco di cono E quindi la distorsione dello zoom Influenza poco Però un pochettino Sull'altro asse influenza Quindi è buona norma comunque Avere più compressione dei piani possibile Cosa vuol dire? Vuol dire avere il soggetto più lontano possibile E zoomarci contro il più possibile Ho scattato quindi un paio di foto Alla mia cialda Retroilluminando il muro il più possibile In modo che fosse bianchissimo E lasciando la cialda in ombra il più possibile In modo che fosse scurissima Con un veloce passaggio poi sul computer In Lightroom e in Photoshop Ho trasformato la cosa in una perfetta silhouette Quindi proprio bianco su nero Ripulendo i bordi con qualche filtro nitidezza Chiaramente eliminando il punto in cui C'era la bacchetta da sushi che passava Per avere l'esatto profilo della cialda A questo punto in realtà Visto che me ne serviva solo metà Mi serviva un semi profilo Cioè quello che vediamo noi come silhouette È ovviamente come se fosse un'immagine specchiata Cioè vedete che è perfettamente simmetrica Rispetto al suo centro E allora ho scelto quella delle due metà Che era uscita meglio Quindi con le linee più ortogonali Belle, dritte E ho semplicemente cancellato l'altra Specchiando quella che avevo In modo da avere una bella forma di cialda Più precisa possibile E più simmetrica possibile Ho poi importato questa in Blender Dove l'ho estrusa Ad angolo giro Cioè l'ho trasformata in un oggetto solido Facendola ruotare attorno al proprio asse E in questa maniera abbiamo la forma della cialda Non le dimensioni Perché il metodo di fare la foto E di usare la silhouette Funziona con accuratezza dimensionale perfetta Nel caso in cui abbiamo Una distanza infinita E uno zoom infinito Chiaramente nel nostro caso Siamo stati più lontani possibile E più zoom possibile Ma non certo all'infinito Quindi ci sarà sicuramente Un minimo di distorsione Dovuta dal fatto che Il sensore della fotocamera È uno E i fasci di luce Che vengono proiettati Sono leggermente storti Vabbè tutto questo per dire Che bisogna dare delle dimensioni Alla nostra cialda Quindi con un calibro Ne ho misurato il diametro Magari in un paio di punti In modo da avere diverse misurazioni Ed esser sicuro di quello che sto facendo E l'altezza Per la storia dello zoom Non infinito e cose varie Non posso misurare solo l'altezza E dire Scalo la cialda proporzionalmente Ma voglio misurare Sia l'altezza Sia il diametro E regolarli in maniera indipendente Tra di loro In modo da avere L'esatta dimensione della cialda E l'esatta forma della cialda E abbiamo il modello 3D Della nostra cialda Insomma Da questo modello 3D Con l'aiuto di Mirko Abbiamo lavorato a una rotaia Per caricare le nostre cialde E questo ne è un piccolo prototipo Non vogliamo avere una rotaiona gigantesca Che si mangi dentro tutta la cialda Non ha senso Sarebbe un incombro di plastica inutile Ma mi basta Eccola qua Questa qua è una prova di rotaia ancora più corta Potete vedere la forma Che è esattamente quella Del cappello della cialda Infatti con incredibile facilità Possiamo aggrappare la nostra cialda E tenerla così Vedete Le dimensioni sono perfette E voi direte Probabilmente è stato un po' overkill Fare il modello 3D di tutta la cialda Avresti potuto Marco Prendere le dimensioni del diametro qua E farla un po' a occhio No perché adesso vedete Che la situazione si complica Comunque poi la nostra rotaia Sarà bella lunga Con le cialde che scorrono qua dentro In questa maniera E si va a infilare direttamente nel coperchio Coperchio che però Si apre ruotando Abbiamo visto Quindi anche la nostra rotaia Dovrà ruotare Ed ecco il perché di questa forma Guardate questo qua È l'oggetto finito Ci manca da fare un paio di prove Per le tolleranze dimensionali Ma questa essenzialmente È la nostra rotaia Mi fa 60 gradi di curva Seguendo l'andamento Di questo coperchio che gira E dopo per forza di cose Se ne continua un po' storta Perché se no le cialde Per gravità non scenderebbero Comunque sul PLA Le cialde scivolano benissimo Sul PETG Scivolano ancora meglio La rotaia finale sarà in PETG E quindi non abbiamo Particolari problemi Da questo punto di vista Ci sono problemi invece Sulla curva Nel pezzo di curva La rotaia deve Dilatarsi parecchio Deve essere molto più larga Perché ovviamente Stiamo facendo Curvare le cialde E quindi ci serve Un'altezza maggiore Della rotaia Se no si incastrerebbe Il bordino Di quanto deve allargarsi La rotaia Beh è presto detto Allora qui abbiamo Un raggio Di curvatura Di circa 7,7 cm È il raggio Della circonferenza Che il nostro coperchio Disegna Quando si apre Quindi disegniamo Una cosa Di 77 mm E sappiamo Che il nostro coperchio Si apre In questa maniera Questo è il punto In cui la nostra cialda Si inserisce Nella macchinetta Del caffè Cioè nel buco Che abbiamo qua sotto Quindi è il punto medio La nostra rotaia Deve arrivare sicuramente Un po' più in qua E un po' più in qua Per guidare La nostra cialda Abbiamo sicuramente Note Le dimensioni Della cialda Il profilo del bordino Quello che la rotaia Vorrà agganciare E quindi per farla semplice Procediamo per Approssimazioni successive Quanto sarà spessa Più o meno la rotaia Nel punto della curva In cui serve Una rotaia un po' più spessa Boh 4 mm Facciamo Ok Vuol dire che Questa distanza qui Saranno due E abbiamo questa distanza qui Che sono due Per avere uno spessore totale Di quattro Quindi il raggio di curvatura Della mia curva esterna Questa roba qua Sarà di circa 79 mm A questo punto Per via empirica Diciamo Ho preso In un software Di modellazione 3D La mia cialda Ho preso la mia cialda L'ho appoggiata Qui contro Questa rotaia esterna Ho creato Un cerchio Che toccava La cialda arancione In un punto solo In modo che quindi La cialda sta toccando In tre punti E ho visto la distanza Tra questi due cerchi azzurri Quanto è? È circa 3 mm Non 4 Ok Ripetiamo il calcolo Dall'inizio Considerando 3 mm Quindi elimino un attimo La rotaia interna La mia rotaia blu Invece di metterla A 2 mm Di distanza La metto a 1 mm E mezzo Ovviamente Che è la metà di 3 Ci riappoggio La cialda arancione Contro E così con un paio Di approssimazioni successive Ho l'esatta dimensione Che mi serve Per far fare la curva Alle cialde Che scendono E signori Dopo un po' di tribolazioni Del genere Abbiamo la nostra Precisissima rotaia Che in ogni punto Ha lo esatto spessore Giusto Per far scorrere Le nostre cialde Giù Dritte Con uno slope Di circa 30 gradi Per tutta la lunghezza Che vogliamo Qui potrei caricare 20 cialde Una dietro l'altra Poi qua in fondo Fanno 60 gradi Di curvatura E arrivano a inserirsi Dritte nel buco Una alla volta Perché il nostro pistone Qua di gomma Fa anche da tappo A parte che le macchinette Del caffè A quanto pare Non vanno fatte bianche Perché si vede Un sacco lo sporco Comunque se noi avessimo La nostra cialda qui Vedete che è messa Lì storta C'è un'altra cialda Qui sopra Che aspetta Molto semplicemente Messa dritta così Appoggiata In questa maniera Quando si chiude Il nostro pistone Si mangia dentro Solo una cialda Adesso ovviamente Non si chiude Perché non abbiamo Unque fatto il buco Poi lui si riapre Dopo aver fatto il caffè La cialda che c'era dentro Cade Questa qua Cade in posizione E è pronta A mangiarsene un'altra Ragazzi Abbiamo creato Un sistema Che semplicemente Con un movimento Carica e scarica Ad ogni colpo Una sola cialda Molto bene Abbiamo fatto abbastanza preparativi Del lato hardware Per questo episodio Il prossimo E ultimo episodio Inizierà stampando In 3D la rotaia Che avete visto È già pronta E stampando in 3D Anche magari Un piccolo case Per questa PCB Anche se mi piacerebbe Lasciarla visibile Perché l'abbiamo fatta Matte Black E quindi Almeno lasciamola In vista Adesso ci pensiamo Ma comunque in caso Sarà semplicemente Un parale delle pipe Da una scatoletta Ora arriva Alla lunga parte In cui programmiamo La nostra PCB Fatta da PCB Whaling In descrizione In particolare Sulla nostra PCB Fatta da PCB Whaling Sto scherzando Abbiamo un ESP Come vi ho detto Gli ESP Sono molto carini Perché esiste un firmware Che si chiama ESP Home Che è appunto Un software Da far girare sugli ESP Per la domotica Per quello si chiama ESP Home ESP Casa È super compatibile Con Home Assistant Anzi Useremo Home Assistant Per programmarlo Da una comodissima Interfaccia web Quindi Io dalla mia scatola Di Raspberry Qua Mi procuro a volo Un P4 Su cui vado a installare O meglio L'ho già installato Qua sulla mia scheda SD Home Assistant Se non sapete come si fa Vi lascio ai mille video Che ho fatto Riguardo Home Assistant Vi esce sia la scheda Qua in questo momento Sia trovate il link In descrizione Home Assistant È il programma definitivo Per la domotica Personale azzabilissimo Totalmente da maker Puoi farti le interfacce Le cose I plug in Io lo consiglio un sacco Per la domotica di casa Perché lo sto installando Da zero Io adesso sono un Raspberry E non ce l'ho in funzione In questo momento Perché ce l'avevo in funzione Sul mio server Avete presente il serverone Che abbiamo costruito Che purtroppo Un mesetto fa Ha deciso di abbandonarmi O meglio È saltato l'alimentatore Non ho ancora avuto il tempo Di sistemarlo purtroppo Una mattina mi sono svegliato Che mancava la corrente in casa E poi ho scoperto essere L'alimentatore Il PSU Del server Che era in cortocircuito E appena lo riattaccavo Alla corrente Partiva il salvavita Quindi è per quello Che sono senza domotica E senza Home Assistant Però faremo su un Raspberry Al volo Quindi mi serve Un Raspberry Il mio ESP Sulla PCB di PCBWay Link in descrizione E mi servirà sicuramente Un piccolo adattatore FTDI Che useremo per Programmare il nostro ESP Con il firmware iniziale Dobbiamo installargli Un firmware iniziale Giusto che lo faccia Connettere al wifi Di casa E dopo faremo tutto Da remoto con il Raspberry Però non avendo Un controller Seriale USB Non ce l'abbiamo messo Sia per questioni economiche Che per questioni di spazio Perché comunque Occupa spazio E sono parecchi componenti in più Ci servirà un programmatore esterno Quindi useremo O un piccolo adattatore FTDI Oppure Va benissimo anche In alternativa Se avete Un Arduino Uno A cui togliere La Tmega Cioè voi prendete L'Arduino Uno Sfilate via Il microcontrollore Deve essere un Arduino Uno Però che ha il microcontrollore Così Di quelli a stecca Che sono appunto Sfilabili Non un Arduino Uno Di questo tipo Che ha Un piccolo circuito integrato Non rimovibile E a quel punto Potete utilizzare Il controller USB Di Arduino Per fare da ponte All'ESP Per parlargli E cose varie Se volete seguire questo metodo Cercate su Google Come si fa Perché in questo video Non c'è assolutamente tempo Per spiegargli entrambi E perché un FTDI Da Amazon Costa veramente poco Molto bene Allora Finisco l'installazione Di Home Assistant Qua In modo da averlo In esecuzione Pronto e via Attacco due cavetti All'ESP Dall'FTDI Per averlo connesso All'USB E per usare l'IDE Di Arduino Semplicemente Per programmarlo E ci rivediamo Quando siamo pronti Allora In realtà Cominciamo dalla nostra PCB Perché per fare le cose Più comode Mi saldo Un paio di header Su qualche pin In modo da poter attaccare E staccare i cavetti Più comodamente E questi qua Dopo li andrò a rimuovere In un secondo momento Sono solo per una mia comodità Adesso In particolare Vedete che ho saldato I due Qua Del P3 Tutti e tre Quelli del P1 E l'ultimo Del P9 E vi preannuncio Già che Se poi sceglierete Di fare questo progetto Della macchinetta smart E guarderete Il pin out Della nostra schedina Overcoffee Inorridirete un pochettino Perché il pin out Qua Manca molto Di coerenza Ci sono alcuni Ground che sono a sinistra Alcuni ground a destra Ma l'importante È che Siano documentati E che sappiamo Cosa stiamo facendo Quando ci connettiamo a roba Roba come Il nostro FTDI FTDI Questo qua È quello che ci permette Di adattare A un cavo usb La seriale Del nostra scheda Quindi in particolare Allora Il P3 lo lasciamo un attimo da parte Noi abbiamo Il nostro P1 Del quale Il ground È a sinistra Quindi Attacco questi Tre cavetti qua Quello che Adesso state vedendo Come blu È il ground Lì a fianco Quello verde È il TX Del nostro ESP Quindi dovremmo connetterlo All'RX Del nostro adattatore Il giallo È l'RX Che andrà connesso Quindi al TX Questo ovviamente Perché Per chi non fosse Avezzo al mondo di Arduino TX sta per trasmissione E RX sta per ricezione Quindi dove uno trasmette L'altro deve ricevere E dove l'altro trasmette Il primo deve ricevere Ovviamente E in più Dobbiamo dargli 3 volte 3 Per alimentare la scheda E questo possiamo farlo O con l'unico pin 3V3 Che abbiamo qua Sul P9 Oppure in realtà Molto semplicemente Dando da 12 a 24 volte A tutta la scheda Cioè alimentando la scheda In realtà L'ESP è già alimentato Però nel mio caso Preferisco fare tutto Attraverso la USB E quindi Vado a connettere Il mio terzo pin Del P9 Che è proprio il 3 volte 3 Dal lato del FTDI Ragazzi Attenzione Perché qui Abbiamo un selettore Di tensione O lo avete qui Oppure in alcuni chip È messo sui pin Più laterali Di questi qua Quelli tanti Insomma Ma nel mio caso È montato qua sopra E c'è questo Cappuccetto di plastica Da sfilare Vedete Che mi permette Di scegliere Tra 5V Lo vedete scritto lì E 3V3 Che lo vedete scritto qua Quindi noi Con il cappuccetto di plastica Dobbiamo connettere Il pin centrale A uno dei due laterali A seconda della tensione Che vogliamo L'ESP va a 3V3 Quindi il mio cappuccetto Va da questo lato qua Vedete Tra il centrale E il 3V Attenzione Che se lo mettete a 5 Bruciate l'ESP Bruciate la schedina Fortunatamente Dal lato del nostro FTDI Ci sono scritti Tutti i pin Adesso sono un po' in ombra Ma eccoli qua Li vedete E quindi Molto semplicemente Il mio Ground Va a ground Il verde Che era Il TX Va a RX Il giallo Era RX E va a TX E il VCC Che appunto Chiamano VCC E non 5V Perché dipende In questo caso È 3V3 Non è 5 Era il VCC A posto Quindi qui Con questo arancione Stiamo dando i 3V3 Bene Quindi in questa maniera Abbiamo la nostra scheda Connessa O almeno connettibile Via USB Al computer Passiamo al computer Ah mi sono dimenticato Di dirvi a cosa ci serviva Il P3 Quei due pin Semplicemente li connetteremo Tra di loro Per mandare l'ESP In modalità programmazione Avremmo potuto tranquillamente Farlo senza saldarci L'header Comunque siamo qua Su Home Assistant Vedete è bello vuoto Ma in realtà Non partiremo da qui Andiamo ad aprire In una nuova tab Esphome.io Questo sito qua Esphome È un piccolo firmware Per ESP In realtà piccolo Ma bello completo Perché vedete che Di base Supporta il wifi La tecnologia MQTT Li quadro C Seriali Varie Addirittura Cambus Aggiornamenti Over the air Quindi dovremmo connettere Una sola volta Il nostro cavo USB E dopo possiamo Flashargli i firmware Via wifi Bellissimo Un HTTP server Dell'API Il Deep Sleep Per l'ESP Se va a batterie E un sacco di roba E tra l'altro Guardate qua Esphome È un progetto Creato da Nabucasa Nabucasa Sono gli stessi Che fanno Home Assistant Quindi è proprio Tutto molto Interconnesso Nativamente Cosa dobbiamo fare Dobbiamo andare su Getting Started E noi lo faremo Da Home Assistant Quindi vado a cliccare Su From Home Assistant Ci sono due tasti qua Blu Perché dobbiamo andare A installare La dashboard Esphome In Home Assistant Quindi con il primo tasto Aggiungiamo il repository Voglio gli metto L'indirizzo IP In realtà Sì Probabilmente funziona Con il dominio .local Opla Apri In Home Assistant Lui mi rimbalza Qui sul mio Home Assistant E io posso Aggiungere Il repository Non lo so Perché mi dia un errore Ma forse L'aveva già installato Allora Vabbè Poi il secondo pulsante Sarebbe per installarlo Ma a questo punto Già ce l'abbiamo Dalla interfaccia Di Home Assistant Quindi faccio Installa E abbiamo installato Esphome Il bello è che Come la macchinetta del caffè In realtà possiamo avere Infinity Esp In giro per la casa Vederli tutti dopo In un'interfaccia unica Aggiornare i firmware Di ciascuno Controllarli E cose varie Eccolo qua Installato Ve lo mostro Se avessi cliccato Il pulsantino qua Poi faccio Apri In Home Assistant Boom Mi avrebbe rimbalzato Esattamente su questa pagina Dove fino a un attimo Faccia il pulsante Installa E adesso c'è il pulsante Avvia E allora andiamo ad avviarlo Clicco proprio su Avvia E poi vado a premere su Apri l'interfaccia web Qui Benvenuto in Espo Home Sembra che tu non abbia Aggiunto nessun dispositivo E beh Andiamo subito Ad aggiungerlo Nuovo dispositivo La prima volta Ti serve connetterelo Con il cavo USB E l'abbiamo visto Ah Non avendo configurato L'HTTPS Su Home Assistant Perché l'ho appena installato Mi fa andare su Espo Home Web Che è il loro sito Per fare le stesse cose Che faremo qui Da Home Assistant Ma Su un sito Che ha l'HTTPS E per il quale Chrome Permette Di accedere alle porte USB Per installare Le firmware sull'Esp Nel vostro caso A seconda che abbiate Configurato l'HTTPS Su Home Assistant Oppure no Ovviamente c'è sul mio canale Il tutorial In cui ve lo spiego Dopo da cima a fondo Come fare l'HTTPS Su Home Assistant I domini E tutte cose Potete scegliere O uno o l'altro bottone Io da oggi vado Con Espo Home Web Perché così Siamo su un sito Che ha l'HTTPS E possiamo accedere alle USB Allora Connettilo con la USB E clicca su connetti Molto semplice Ovviamente Vi servirà avere I driver installati Sul vostro computer I driver classici da Arduino O da drone FPV O da stampante 3D Insomma Sono i soliti CH340 Oppure CH341 Se non li avete procurate Vedi che tanto nella vita Serve sempre Poter connettere dispositivi Al vostro computer Ok vado a connettere La porta USB E in teoria Dovremmo poter vedere Le spese Faccio su connetti Penso che sia proprio Questa USB UART Connetti Eeeh ragazzi Allora Possiamo renderlo adottabile Preparalo per l'adozione In pratica Stiamo installando Una versione base Di OEF SPOM Giusto che si connetta Wi-Fi E dopo faremo tutto Via internet Ok Rendilo adottabile E ovviamente Mi sono dimenticato Di premere Il pulsante boot Però tanto possiamo riprovare Quindi collego tra di loro I due pin del boot Faccio riprova Lui si sta connettendo E infatti Eccolo qua In pratica bisogna Semplicemente Tenere connessi Tra di loro I due pin del P3 Mentre si connette La USB Cioè mentre diamo Corrente all'ESP E dopo possiamo togliere Anzi dobbiamo togliere Questa connessione Tadam Configurazione installata Premo su chiudi Ora secondo me Questo qua ci dà un errore Perché noi dobbiamo Toglierlo E rimetterlo dalla USB Cioè togliergli corrente E ridagli corrente Questa volta però Senza il pin di boot Premuto In modo che lui Questa volta si avvii Nella modalità normale Se io adesso andassi Sul menu Configura il wifi Si parlano Ah eccolo qua Eccolo qua Ok si si Connetti al wifi Gli dico la mia wifi Andava semplicemente Aspettato un paio di secondi Dopo aver attaccato la USB Ora gli ho dato Il nome del wifi A cui connettersi E la password Per connettersi Ok 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 Ce l'ha fatta Ora da qui potremmo Cambiare il wifi Visite Non mi interessa niente Chiudi Se io adesso tornassi Su home assistant Yeee ragazzi Guardatelo qua Abbiamo il nostro Esp Che salta fuori Automaticamente Nell'interfaccia Perché è connesso Alla stessa rete Internet Alla stessa rete Locale Adottalo A quale wifi Dovrà connettersi Eh te l'ho già detto Ma devo ripeterla Perché andremo a reinstallare Un nuovo firmware adesso Adotta Tan 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 Installa pure La nuova configurazione Tanto posso farlo Wireless Quindi lui adesso Si scarica il firmware Però secondo me Non trova l'esp Il bello è che Tutto questo Sta avvenendo Sul raspberry Mica sul mio computer Adesso sarà il raspberry Il maestro delle macchinette Del caffè Quindi ha scaricato Tutti i plugin Tutte le cose Per costruire il nuovo firmware Compila il firmware Che era scritto In c++ ovviamente Uh ma che bello Abbiamo anche proprio Una pagina di interfaccia Cioè se vado a visitare L'indirizzo ip Dell'esp Già Ha un piccolo web server Che mi mostra cose Addirittura con il tema scuro Volendo E da qua potrei Proprio caricargli Un aggiornamento Super facile Tra l'altro abbiamo anche Un piccolo ping Di watchdog Cioè vedete che questo cuoricino qua In alto a destra Ogni tanto batte Eccolo qua E questo qua Ci sta a significare Che l'esp È proprio online Connesso E sta funzionando In questo momento Ah eccolo qua Ce l'abbiamo fatta Espom Cose varie Molto bene Allora ho risolto Il problema di connessione Probabilmente nella mia rete locale Con il mio router Non gli piaceva Il dns.local Perché lui cercava Di connettersi A nome dell'esp .local Ma da quanto pare Da me non funziona Quindi cosa ho fatto qua Da modifica Gli ho dato Un indirizzo ip In manuale Dicendogli che lo trova Su questo indirizzo ip Che è il .55 E quindi se io adesso Vado a fare install La wireless E poi ci spostiamo Un attimo Sull'esp Questo qua Guardate qua Vedete che mi stampa Le cose sul suo terminale Sta ricevendo L'aggiornamento Da home assistant Aggiornamento Over the air In progress E infatti qua È tutto verde Compare un sacco Di roba viola Addirittura adesso Mi comunica Quanto bene Prende il wifi Su che canale Wi-Fi è bello Un sacco di informazioni Assolutamente inutili E allora clicco su modifica Perché tanto dobbiamo fare Delle modifiche Allora qua volendo Potremmo cambiargli anche nome Potremmo dargli il nome Macchinetta Ma a noi non ci interessa Particolarmente Ci interessa molto di più In questo momento Tornare sulla nostra Espom E andare Beh sensori Non ne abbiamo Andare su Componenti Dell'output Opla E qui abbiamo Tutta una bellissima lista Di cose Che possiamo fare Con il nostro Esp Non mi interessa Praticamente niente Di tutto questo Vedete potremmo Controllare la luce RGB Cose varie Ma a noi sicuramente Ci interessa Se scendessimo Fino Ai MISC Eccoli qua Componenti miscellanei Troviamo Il servo Eccolo qua Servo motore E qui troviamo La documentazione Su come scrivere All'interno del nostro File YAML Di Home Assistant Quello che ci serve Per controllare il servo L'altro invece Che ci serve Nella sezione Bottoni Eccolo qua E' un generico Pulsante di output E anche qui Abbiamo la nostra Configurazione Allora Facciamo subito Copia e colla Di entrambe Mi metto In un qualsiasi Punto a caso Magari anche in fondo Semplicemente Opla Mi dice che il pin Numero 25 Non ce l'abbiamo Ma adesso ci pensiamo Qua copio il servo Che fa categoria A sé Quindi bottone E servo Ma la parte Di output Non la riscrivo Da capo Aggiungo solo Il PWM Piattaforma GPIO Questo qua sarà L'output Cose varie Opla E gli metto anche Uno spazio Non è dubbio Nel nostro caso Secondo il datasheet Della nostra Overcoffee Potremo connettere Il servo motore La P5 Quindi sarà Sul GPIO Numero 12 Quindi il pin Sarà il 12 Diamo sicuramente Al servo motore Un nome intelligente Tipo Carica Cialda Per il servo Su Amazon Non trovo la frequenza Nella descrizione Quindi ci fidiamo Che sia a 50 Hz Che è un valore Abbastanza comune Per i servo motori La platform è giusta L'ID Va bene Lasciamo questo Qualche altro parametro Interessante Per il nostro servo Vabbè Ci serve sicuramente Il livello minimo E il livello massimo Del PWM Ma questi li vediamo Nel prossimo video Dopo che avremo Installato tutto quanto Quindi per ora Li appoggio un attimo qui Ma poi li vedremo Più nel dettaglio Dovremo calibrarli In modo che Il servo apre E chiude Perfettamente Lo sportello Poi voglio sicuramente Un auto detach time E una lunghezza Della transizione Mi piace specificarla Perché così Possiamo dirgli Mettici due secondi Ad aprirti O a chiuderti E così lui va un po' più lento E magari fa anche Un po' meno rumore L'auto detach time Cioè dopo quanto tempo Deve smettere di spingere In realtà potrebbe farlo Anche subito Gli do magari 200 millisecondi Queste sono Le tipologie di tempo Che potete mettere Quindi il numero Eventualmente Con cifre decimali Seguito da H per ore Oppure min In parola Oppure s O ms Oppure addirittura Microsecondi Min level E max level Per ora lasciamo Quelli default Poi ci penseremo Mi copio in collo Quelli default Ma almeno Li abbiamo specificati Così ce li abbiamo Già lì Che sono scrivibili In qualsiasi momento Il tipo di valore Che vuole È una percentuale Quindi si serve Anche il simbolo Di percento E per il servomotore Diciamo che va bene così Per quanto riguarda Il nostro pulsante Invece Dove lo vogliamo Su che gp Io lo vogliamo Allora possiamo vedere Che il nostro switch 1 È connesso All'1y E 2y Di questa componente qua Se andassi a vedere Il datasheet Di quella componente Sul sito Della Texas Instruments Vedrei che Il pin 2y È controllato Da 2a E 2b E l'1y È controllato Da 1a E 1b I nostri 1a 1b 2a E 2b Sono connessi Al GPIO 4 Dell'ESP Tutto questo Di giro Per dire che Il pin numero 4 Mi controllerà La switch numero 1 E volendo il pin 5 La switch numero 2 Ma il caffè lungo Non lo faccio mai Non mi piace Troppo acquoso Voglio solo caffè ristretto Però volendo Possiamo collegare entrambi Quindi output Il pin È il numero 4 Opla Scompare anche la X rossa Che mi diceva Che non era valido Output 1 Lo lasciamo Ma il nome di questa cosa Sarà Caffè Ristretto Espresso Chiamiamolo Espresso Anzi Fai Espresso Bene Penso che ci siamo Salvo la configurazione Fatelo Perché un attimo fa Mi è crashata La tav di Chrome E ho dovuto riscrivere Tutto da capo Perché non avevo salvato E questa è la nostra configurazione Ragazzi Non ci resta che premere Il pulsante Installa Come vuoi installarlo? Wireless Assolutamente Boom Stiamo attraverso il Wi-Fi Trasmettendo il nuovo firmware Con tutta la roba Che abbiamo scritto All'ESP O meglio Alla nostra magica Schedina Over Coffee Fatta con PCBWay Link in descrizione Opla Uploading Over the air Sbam OTA Successful Ah ci butta fuori Tutte le impostazioni Come prima L'intensità del segnale Wi-Fi E le impostazioni Dell'IP Ma adesso Si aggiungono anche L'output GPIO E il PWM Per il servomotore Insomma le nuove cose Che abbiamo messo Perfetto Qua posso fare edit E dopo close Non so perché E quindi ragazzi Abbiamo con successo Il firmware Sulla nostra schedina Over Coffee Che nel prossimo video Cableremo Ma lei attualmente È pronta È funzionante Non ci resta Che prendere La bellissima FL Sun Super Racer E con questo timelapse Che per me Sono state circa 5 ore di stampa Stampiamo La nostra rampa La rampa Per le cialde In PETG Non in PLA Come vi anticipavo La faccio di colore bianco Per intonarsi Alla macchinetta del caffè Anche se Se avessi avuto Un nero Opaco Sarebbe stato Altrettanto bello Solo che il PETG Tendeva a essere lucido E quindi va bene così Guardate che bella Tra l'altro La scritta La sto stampando Tra l'altro Un po' storta Con i supporti Sulla base Per utilizzare Meno supporti Possibile Ed essere più efficiente Possibile Nella stampa Ed eccoci qua Signori Questo è il pezzo Ultimato Non è venuto benissimo Purtroppo Perché a un certo punto Ha cominciato A ondeggiare troppo Ho cercato di puntellarlo Con dei pezzi di legno Ma un po' troppo tardi Forse Ma a parte quello Purtroppo ho urtato I pezzi di legno Per fare una storia Instagram E l'ho disalineato Infatti è venuto Un minimo di layer Disalineati Me lo ristampo Comunque l'importante È che funzioni Sia nella parte piatta Le cialde scorrono Perfettamente Sia nella parte curva Hanno tutto lo spazio Che vogliono Per curvare E questo sarà montato Qui Esattamente qua Ovviamente devo togliere I supporti adesso Sarà montato qua Il raggio di curvatura È perfetto La rampa Arriva perfettamente All'altezza Del buco Preesistente Quindi basterà semplicemente Allargare questo Con il Dremel Ragazzi Ci siamo Ora non si torna più indietro La macchinetta è quasi pronta Manca veramente Nel prossimo video Da magari stamperemo In tardino Un altro paio di pezzettini Per tenere in posizione Il servomotore Ma delle scemenze L'unica vera cosa Che ci rimane da fare È cablare La nostra schedina Overcoffee Fatta da PCBWay Link in descrizione Ai pulsantini E al servomotore E poi ci siamo Basterà fare l'automatismo Su Home Assistant Da dirgli Apri il servomotore Chiudi il servomotore Aspetta 3 secondi Premi pulsante E abbiamo una macchinetta del caffè Totalmente autonoma Sfondate questo video Assolutamente Di pollici in su Mi raccomando Restate belli agguerretti Per il resto della settimana Perché escono altri due video Molto molto fighi Uno giovedì E uno soprattutto sabato Sabato esce un video bomba Non potete perdervelo Mettetevi pro memoria della vita Per questo video è tutto Ciao a tutti Pollici in su Assolutamente Macchinetta del caffè Episodio 2 L'abbiamo portato a casa